Mister Chianetta molto amaro in bocca perché insomma dopo sette nitide occasioni arriva il gol degli avversari al quarantesimo e poi capita pure che puoi anche pareggiarla con quel tiro di Angeleri, però insomma lascia molta amarezza, arriva la prima sconfitta stagionale in campionato, però la squadra oggi ha costruito, forse bisognerebbe concretizzare, anzi si deve concretizzare. Sì, si deve concretizzare, il calcio è anche questo, io non ricordo oggi che il nostro portiere abbia fatto delle parate, però perdiamo la partita, abbiamo preso due traverse, abbiamo creato penso un'importante situazione da gollo sia nel primo tempo che nel secondo, su una ripartenza in uscita nostra prendiamo un gol evitabilissimo dal mio punto di vista, però il calcio è questo, ne prendiamo atto e niente, dobbiamo fare solo mia colpa, ci dobbiamo ricompattare dopo questa sconfitta e ripartire andando avanti per quello che è il nostro percorso. Ecco però, ecco, ci sono state notate delle cose positive ovviamente, oltre alle sette occasioni da rete, ma anche alcuni giovani che adesso sono una conferma, i vari Russo, anche Angeleri quando è entrato, che ha sfiorato il pareggio, insomma c'è anche dietro, c'è anche un settore giovanile, è una cantera come la definiamo noi, che riesce bene a supportare questa squadra, no? A Russo ho sempre giocato, dunque non è che, non mi è piaciuto l'atteggiamento di qualcuno, però me lo tengo per me, penso che oggi la squadra non, magari sotto l'aspetto del gioco ero molto più arrabbiato sabato, in casa della Parma, non vale, però ribadisco il calcio è questo, ci sono partite giochi male, le vinci, poi nell'arco dell'anno queste cose si compensano, dunque, oggi penso che la vittoria era meritata, se non di più facciamo i complimenti a loro perché sono stati bravi a sfruttare forse l'unica occasione da gollo che hanno avuto, gli facciamo i complimenti e pensiamo a lavorare sui giovani, ne abbiamo tanti, nel Russo l'anno scorso non giocava, questo anno sta giocando, Perrone sta giocando anche lui, Sfrar, Calamia che oggi era assente per questioni di salute, giovani ne abbiamo, naturalmente dobbiamo migliorare tanto sotto tante cose, ecco, sotto tante cose. Ecco mister, quando è uscito Testa, è entrato di Giuseppe, Testa non l'ha presa un po' bene, nessuno vuole ovviamente uscire, vuole segnare, tutti gli attaccanti vorrebbero rimanere in campo fino alla fine, però insomma, la sua era stata una pure, una buona, aveva colpito pure, insomma, aveva fatto bene, però è uscito così, insomma, poi ha chiarito un po' con lui? No, non c'è bisogno di chiarire, assolutamente, a me fa piacere quando magari qualcuno esce ed è un po' scontento perché significa che ci tiene, dunque, significa tanto attaccamento alla maglia, con Davide ci conosciamo da una vita, dunque non c'è assolutamente bisogno, mediamente litighiamo tre volte al giorno, dunque, anzi, oggi siamo ad una, e dunque lo dico in maniera scherzosa perché lo sa lui e lo so io quanta stima c'è reciproca e tanta amicizia anche fuori dal campo, dunque non penso che sia assolutamente, anzi, non è assolutamente un problema.